Mi chiamo Werner Vassa, sono qui rappresentante della compagnia Vassa a Barletti e presentiamo per Fabola Mondi al Festival Ciorciata un testo di un giovane tedesco, Bonn Park, che io non conoscevo prima, l'ho scoperto grazie a Fabola Mondi a Barcellona quando me ne hanno parlato per la prima volta di questo testo che era un dialogo fra una didascalia e una terruga stravecchia che si chiama Giorgia, mi sembrava fantastica, semplicemente come primo impatto, ho detto che questa potrebbe essere una roba che mi piace, in effetti poi è andata a buon frutto. Ecco, io sono Lea Barletti e sono la didascalia, quindi in questa mise en espace di questo testo che si chiama Tristezza e Malinconia ho Giorgia il più solo, solissimo di tutti tutti i tempi, che è lui, e io appunto faccio la didascalia. Il testo ci ha colpito per la sua follia in realtà, proprio perché la situazione, cioè immaginarsi questa situazione di, diciamo, dialogo tra un personaggio, una tartaruga, e la sua didascalia, e un testo che parla di depressione, ma lo fa in maniera anche divertente, pop, senza però mai perdere il suo centro. Grazie. 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 Grazie.